Ah 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 yeah, ah 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 yeah! Ogni giorno in questa casa una nuova avventura ti aspetta Ah ah! Ed è grande la sorpresa non perderti questa festa Ah ah! Ma c'è una pagina in bianco che dobbiamo scrivere noi Ah ah! Non c'è un giorno come un altro, un giorno nuovo oggi vivrai Ah 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 yeah! E fino alle illusioni, abbasso le discussioni Prendiamoci per la mano, ora fratelli noi siamo Avremo mille colori, per la terra su cui viviamo Finendo anche i nostri cuori, per più amici noi siamo Vorrebbe sposarsi con me? Che cos'è uno scherzo? Perché vuole sposarmi? No, non è affatto scherzo, in realtà ha sentito desiderio di averti moglie sin dal primo momento che ti ho vista Ma se questa è la prima volta che mi vede Scusi, fino a poco fa non mi rivolgeva nemmeno la parola, ero invisibile Fino a poco fa, ma adesso in realtà non ho occhi che per te, mia adorata Scusa Nini, ma a me sembra un'opportunità incredibile Non puoi lasciartela scappare, andiamo per favore Sì ma non è il caso, non possiamo accontentarla, la sua richiesta è inaccettabile No, certo, soprattutto perché io sono il suo fidanzato, lo aveva appena detto, non mi ha sentito Mi perdoni, ma il principe Abdel non ha bisogno del suo permesso, mi dispiace Ha già preso una decisione, la splendida Nini si sposerà con lo sceico A Mascadei i matrimoni si decidono così Come? Così? No, no, e qui le cose sono diverse, non siamo a macramè Questa è l'ambasciata di Santa Juliana Mi scuso con voi, ma adesso dovrei accompagnare il principe di corsa alla sala da bagno Sala da bagno Mi permette una domanda Nini, mi congratulo con te Risvegli in tutti quanti l'interesse, è incredibile Sono confusa Non mi rende felice quello che provo Davvero, non posso credere che io senta qualcosa di così importante per te Parla di qualcosa, non startene lì in palato come se le mie parole fossero una doccia fredda In realtà sono come una doccia fredda, ti assicuro che non me l'aspettavo Non mi sembra possibile quello che dici Perché? Perché non mi hai mai dato un segnale che mi facesse capire che ti importasse davvero Mi hai sempre fatto credere che per te ero un ragazzino viziato Un immaturo, non lo so Sì, ma tra noi è nato qualcosa di serio, no? Non ho mai provato per nessuno quello che sto provando ora per te Ma se davvero mi amassi, non faresti quello che stai facendo con il ritrovo, tu sai quanto sia importante per me Non mischiare le cose Sono veramente stanca di dirti che la decisione riguarda questa questione è di mio padre, non mia Vuoi accantonare la questione del ritrovo? Sì E a proposito di Juan? Ami anche lui, Carlo? No, no, Juan mi piace ma non conta niente Il sentimento che ho per te è un'altra cosa È più forte, è reale anche se tu non vuoi credermi Cerco di farlo Ti prego, credimi, non ti sto mentendo Sua altezza permette Il bagno è laggiù in fondo Dove ha detto che si trova bagno? Non so signore, non mi permetto di guardare la signora Parker Va bene, se non mi volete guardare non lo fate ma almeno ascoltate Io vorrei dire soltanto una cosa Cioè che sua altezza può contare su tutto il mio appoggio se vuole prendere in moglie Nini Perché io farò il possibile per convincerla Oh bene, c'è stato un giorno dopo Sì, cosa vi occorre? Ringrazio la signora per sue buone intenzioni Ma le faccia sapere che non è assolutamente necessario il suo intervento con la signorina Nini Ah, perfetto, la ringrazia per l'offerta di aiuto ma non è necessario Sì, mi dica di non esserne tanto sicuro perché non è facile convincere Nini Quando si impunta è più cocciuta di una mula Non ne sia tanto sicuro perché Nini è testarda, è un osso duro Sia ben chiaro signora Parker Il matrimonio del mio signore con la splendida Nini non è una richiesta Ah È un ordine incontrovertibile Ah, è sicuro che sposerà la signora Nini? Sì, sì, beh ci arrivo anch'io, Orazio Le propongo per chiudere bene questo accordo di fare doppio matrimonio Signora con ambasciatore e io, sceico con Nini Doppia coppia, capisce? È un'ottima cosa, chiede di fare un doppio matrimonio E Orazio stia zitto, lo sceico propone un matrimonio di due coppie nello stesso giorno, giusto? Tutti e quattro Ti tengo a precisare che mi farò carico di tutte spese Mi spiego dove ha detto che si trova Bagno Ah, non l'ho detto, è laggiù in fondo a destra Bene Prego No, Orazio, non permetterò che Nini e lo sceico mettono in ombra le mie nozze con Tomas, no Eh, signorina, mi scusi se mi permetto, ma se fosse in lei accetterei Beh, io la scuso, Orazio, però non capisco il suo punto di vista È meglio se Nini sposa lo sceico Se è libera, potrebbe rovinare il suo matrimonio Ha ragione, Orazio, ha ragione Molto bene, è una giusta osservazione, Orazio, complimenti Ecco, in conclusione, per colpa di quei signori, ho dovuto fare gli straordinari Ho dovuto controllare tutte le stanze degli ospiti, ho cambiato le lampadine Insomma, in questa ambasciata c'è bisogno di molta manutenzione, Carmen Angelo, è il tuo compito Eh, va bene, questo che c'entra? Qui devo fare sempre tutto io Ti lamenti? Non fai altro che lamentarti, è da più di mezz'ora che ti stai lamentando, Angelo, per favore Questa delegazione orientale ha dato un tocco di prestigio a questo posto, no? Come orientale? Non sono mica cinesi, sono arabi Sono del Medio Oriente, arabi del Medio Oriente, Angelo, capisci? Non importa, stavo dicendo che hanno dato un tocco di grande prestigio a questo posto, non l'hai notato? Va bene, parlando di prestigio, ascolta L'ambasciatore ha accettato la proposta di cambiare colore alla tua uniforme, hai visto? Sul serio? Ma davvero? Carmen, di che colore sarà? Devi assolutamente dirmelo, ti prego Lo saprei molto presto, Angelo, per adesso posso soltanto dirti che si sente aria di grandi cambiamenti in questa ambasciata La senti? Sì, sì, va bene Comunque, Carmen, attenzione, perché se è un colore un pochino troppo, come dire, troppo stravagante Io non lo indosserò Non ti lamentare sempre, ora basta, basta con questo discorso, se no mi nervosisco Devi provare, sperimentare come lo sceico, hai visto? Lo sceico è un tipo robusto, ben piazzato, deciso Va bene, certo, ben piazzato, se avessi i soldi che ha lui, pure io sarei ben piazzato, molto ben piazzato Non è questo il punto, non è una questione di soldi, è una questione di attitudine Attitudine Attitudine, portamento da sceico, prova Attitudine, eh? Atteggiamento da sceico, non come stai tu di solito, tu mi stai così, prova così, chiaro? Sì, va bene così? Sì, è un buon inizio, testa alta Eh, va meglio? Sì, vediamo Sono abbastanza convincente? Beh, sì, un po' troppo Che si è messo in testa? Come può impormi di sposarlo? Non può fare come vuole, qui le regole sono differenti, deve capire Insomma, va bene, io rispetto tutte le culture, ma mi sembra un po' folle Gli avevo appena detto che è la mia fidanzata e vorrebbe sposarla, ma non ha alcun senso No, assolutamente, non ha alcun senso È riso in faccia, è imbarazzante, io non posso accettarlo E tu che cosa c'entri? Ha chiesto di sposare me, non Selina Io sono l'ambasciatore di Santa Juliana, doveva consultare me prima di fare una simile richiesta Perdonami, Thomas, ma quello più coinvolto qui sono io, è con me che doveva consultarsi Non ti preoccupare, toglieremo questa idea dalla testa di quello sceico No, io toglierò quest'idea dalla testa dello sceico, perché Nini non sposerà nessuno Cosa? Nessuno che lei non voglia, è ovvio Ma certo che non voglio sposare lo sceico, certo che non lo voglio sposare Come hai potuto pensare che io... Ma la smette di seguirmi? Mi sta ascoltando Per lui sei la donna dello sceico, è naturale che ti ascolti Io non sono la donna dello sceico, basta, adesso ci parlo Nini Non va bene Che cosa? Che ti prende? Non va bene che noi due continuiamo ad avere una storia Tuo padre non deve saperlo Cosa? Che c'entra mio padre con questo? Tu abbandonerai il progetto del ritrovo, sapendo che mi coinvolge, o no? No Come no? No, Martini, io... Senti, te l'ho già detto che non posso tirarmi fuori da questo progetto Perché no? Perché no? Perché questo significherebbe... Perdere l'appoggio e la stima e, cosa più importante, l'amore di mio padre, non posso L'amore di tuo padre Allora perderai il mio Ah, sì, è qui Voglio parlare con lei Oh, ecco mia splendida futura sposa No, niente, futura sposa, vorrei spiegarle soltanto come la penso Io ho in pratica una donna per decidere di sposare un uomo E prima di tutto i due devono conoscersi, frequentarsi per un po', sentire il cuore che palpita Devono uscire a prendersi un gelato, fanno una cena romantica da soli, all'ume di candela E dopo forse si danno un bacio E dopo il famoso bacio, bellina, bellina E dopo il famoso bacio, allora magari decidono Vuole che la metta in testa? Sì, se mi lascia tranquilla la metto E insomma, dopo un po' di tempo decidono di fidanzarsi Così intanto riflettono, mi sta ascoltando Eh sì, certo, ti sto ascoltando Ma adesso è inutile parlarne bellissima Perché in realtà tu già diventata mia moglie Cosa? Quando? Cioè? A masca de... a masca de... Quando la fidanzata accetta una corona di fiori e poi la mette in testa Automaticamente consente al matrimonio Ma no, intende questa No, io non ho accettato, praticamente non potevo, non potevo saperlo Me l'ha data, io l'ho presa, ma non lo sapevo, nessuno me l'ha detto Non ho accettato di essere sua moglie, non ho accettato Quando è successo? Quando? Scusate, ha accettato di essere sua moglie, cosa? Ti sei sposata Ah, congratulazioni, ti auguro tanta felicità No Andiamo, Nini, non fare così, vieni baciare mia mano, vieni Non voglio baciarle la mano, non voglio sposarmi con lei, non sono stata Chiara? Adesso glielo faccio capire io, c'è un equivoco Io non permetterò che succeda questo nella mia ambasciata Il matrimonio va annullato subito Sono completamente d'accordo con l'ambasciatore Lei ha approfittato dell'ingenuità di questa povera ragazza E non è giusto Cerchi di capire, Nini non vuole assolutamente sposarsi con lei Lo ha detto chiaramente E poi è fidanzata con questo signore Grazie Ecco, mi dispiace molto, caro ambasciatore La cerimonia di nozze ha avuto luogo da poco Le parole sono inutili No, non sono inutili nel mio paese D'accordo? Non penso che lei, signor Parker, voglia davvero creare incidente diplomatico con masca dè Soltanto per colpa di una donna Beh, ok, sarà come dice lei Ma allora perché non si sposa con un'altra donna e mi lascia in pace Visto che io non ci tengo per niente ad essere sua moglie Nini, rilassati, approfittane Lo shake è un ottimo partito, tesoro, congratulazioni Oh, salve a tutti, come state? Nonnino, nonno difendimi, è mio nonno Grande onore per me conoscere nonno di mia moglie Di sua moglie? Ti sei sposata con lo shake? Ci penso io Benvenuto nella famiglia nonessa Ha scelto un bocciolo Nonno, che dici? Ah, grazie mille Vi rendete conto di come questo onorevole anziano senza che nessuno spiegasse Nini abbia capito situazione Scusi, shake, ma onorevole anziano, non ho capito cosa voglio dire A masca dè, gli uomini anziani sono venerati per la loro immensa saggezza e il loro talento Sono quasi come dei re Ah, così mi piace di più, ma signore, mi chiami vecchio giardiniere? No, no Adesso devo andare No, no, aspetta Mi perdoni, shake, ma che le stia sfuggendo qualcosa Nini è la mia fidanzata, gliel'ho già detto Le nostre lingue sono diverse, forse non è chiaro? Chiarissimo, ma fidanzata è meno importante di moglie E Nini è adesso diventata mia moglie Ora parliamo stessa lingua, no? Bene, andiamo, tutti a festeggiare Domani mattina si celebra festa di matrimonio Il segretario? Nonno, ci sto parlando Nonno, come fai ad essere d'accordo con lo sceico? Sono pazzo di gioia, tesoro mio Chi poteva immaginare che la mia nipotina avrebbe sposato uno sceico? Che altro puoi chiedere di più? Nonno, ma io non voglio sposarmi Con lui non mi ha scelto, veramente Non ci conosciamo neppure Non me l'ha nemmeno chiesto Ha usato l'inganno Oh, tutti i matrimoni sono strani all'inizio Poi cambia tutto quando arrivano i figli Immagini i bambini che corrono ai piedi delle piramidi Che viaggiano felici su un tappeto volante È geniale No, no, voglio stare un altro minuto in questa casa Me ne devo andare Viola, non credo che tu possa andare molto lontano Oh, nonno, aiutami Non posso stare rinchiusa qui dentro Ed essere la moglie dello sceico È veramente orribile Fermo Ah, 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 basta! Sei impazzita? Come ti è venuto in mente di appoggiare quello sceico Affinché sposasse Nini? Ma che cosa hai nel cervello? Non solo lo appoggio, ma esulto per la gioia È la mia grande occasione per togliermi di torno Quella combina guai di Nini Non vedo l'ora che lo sceico arabo se la porti via con sé Ma così fai un torto a me Io voglio sposare Nini È la mia fidanzata Ma Victor, per favore Puoi avere tutte le ragazze che vuoi Non ha nulla di speciale Io sono innamorato di Nini Beh, a volte si vince, a volte si perde Ti dovrai inventare qualcosa per recuperare la situazione, punto Inventerò qualcosa, la fantasia non mi manca Ma tu non ti intromettere, è chiaro? Non ho nessuna intenzione di intromettermi Al massimo potrò seguire il corso degli eventi, d'accordo? No, secco, no! Era solo un brutto sogno Buongiorno, signora Sheikka di Masca De Che? Tuo marito immagino che stia ancora dormendo Beh, probabilmente sta sognando la sua meravigliosa mogliettina Come stai? Allora, questa è la realtà Che bel visino da donna sposata che hai Oh no, pensavo fosse solo un incubo Mangia tutto, nipotina Io vado a cercare dei fiori per adornare la casa Non posso Grande festa Non ci voglio credere A dopo Non è possibile una cosa del genere È un giorno di grande festa Perché, perché, perché? Dobbiamo parlare seriamente, mi spieghi una cosa? Come è possibile che vuoi sposare lo Sheikka e nemmeno mi avverti? Guarda che io... Guarda che io... Vicky, io... Che mi hai mandato la partecipazione? Sto cercando di dirti che io non ho... Che cosa? Non lo sapevo, nemmeno io sapevo che mi sposavo Vicky Mi prendi in giro, ma che dici non ha alcun senso? È stato organizzato contro la mia volontà, Vicky, ascoltami Non sapevo che mi sposavo Non lo sapevo, non lo sapevo Dobbiamo fare qualcosa, è in fretta Lo Sheikko ha deciso che voleva averla come moglie E a quel punto Nini non poteva fare altro che accettare Non credo che quella ragazza voglia sposare quell'uomo Non dica sciocchezze, la prego, Lupe Questa non ha alcuna importanza Gli Sheikki non si può dire di no Per questo sono Sheikki, capisce? Prego Sì, e io adesso ho perso Nini per sempre Ditemi come faccio ad andarla a trovare a Masca De E oltretutto non so neanche dove andrà a vivere con lo Sheikko Non ho i soldi per il viaggio Non ho i soldi per cercarla Quindi non la rivedrò Tranquillo, Angelo, devi stare tranquillo, credimi Nini non si convince facilmente Se non lo vuole non si sposerà Mi dispiace ma si sbaglia, Lupe Si sono già sposati Si è messa la corona di fiori in testa È come firmare il contratto di matrimonio civile Ma sì, certo Come Orazio e Lupe Voi siete sposati, no? Per favore non mi ricordo quel giorno Il più nefasto della mia vita Di cui pago ancora le conseguenze Non può minacciarmi con la storia dell'incidente diplomatico Io parlo con il cancelliere Questa storia finirà più presto Non intrometterti, Anini Farebbe molto bene cambiare vita e realizzarsi come moglie Ma dai, accanto a un uomo così all'antica Neanche la guarda in faccia quando le parla Ma per favore Ma è innamorato È veramente innamorato di lei Si, è innamorato La conosce da meno di 24 ore Ma qual è innamorata? È stato un colpo di fulmine Non so, che vuoi che ti dici? Ma che stai dicendo? Buongiorno, signor ambasciatore E via buongiorno da parte nostra Anche signora Parker Perché non la saluta lei stesso? Qui da noi ci si saluta l'uno con l'altro Lo sa? Ha già salutato Buongiorno, buongiorno su altezza Buongiorno A me va via Cosa? Amica di nostro sacro figliolo Amica di intoccabile Nostro adorato amica di È un segno divino, principe Abdel È l'immagine sacra del bambino di Mascadè Che è venuto qui per proteggerlo Martina e Carla si baciavano Non mi stupisce affatto Ma non è stato uno dei primi a lottare per il ritrovo Magari ce lo ha fatto credere, non era vero? Potrebbe essere una strategia Per strappare a Carla delle informazioni Ci avrebbe avvertiti, Sofia Il motivo deve essere un altro Se non c'è un'altra ragione Allora è tradimento, chiaro? Per me non ci sono dubbi Chi non la racconta giusta è Carla Lo ha coinvolto facendogli credere di essere innamorata Lo ha fatto cuocere e poi ciao Tu lo sai bene, hai fatto la stessa esperienza Quasi, ma mi sono salvato in tempo Ma dove sta ora? L'unica soluzione è andare a affrontarlo di persone No, no, tanto lo so, negherebbe, lo conosco Se hai una strategia ce lo dirà, altrimenti ci ha traditi Beh, stavolta ti do retta, ma dobbiamo stare attenti Attenti perché? Attenti qui al club, oggi c'è tanta gente Dobbiamo controllare se Martina verrà Se verrà? Perché non viene? Ciao Eccolo Ci sono novità con le prove? Perché non dovevi venire oggi? Chi l'ha detto, perché? Ha detto che non saresti venuto E la ragione? Non l'ho detto niente e allora ha capito una cosa Basta discutere, dai, l'importante è che ora Martina sia qui Ma per quale ragione non dovevo venire? Nessuna, Martina è qui, c'è Lola, c'è Juan, siamo al completo, fine No, manca a Bel, dobbiamo trovarlo Stupendo, c'è scritto così Alla cerimonia il fidanzato offre da mangiare alla fidanzata dei datteri e latte di capra Dove posso trovare una capra? In una fattoria, giusto? Mi prendi in giro? Io devo cercare di annullare il matrimonio e non celebrarlo, hai capito? No, sì, 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 sì Il problema è che non mi dà niente, posso digitare di nuovo Divorzio, masca de, no, nessun risultato, niente Impossibile Forse non si può fare niente per annullare questo matrimonio Sebastiana, visto che sei qui e che ti intendi un po' di questioni legali, no? Sono avvocato Sì, avvocato, avvocato Come si separano a masca de, come fanno a divorziare a masca de? Victor, permetti che ti dica una cosa Conosco le leggi del nostro paese, non quelle di tutto il mondo Ah no? Specie di una cultura così diversa dalla nostra come quella di masca de Bene, visto che non è il tuo campo, non conosci un legale o un consulente del luogo che ti possa dire come funziona il divorzio lì? Aspetta, fammi pensare Ah, no, no, ma non importa, anche se io non posso aiutarti, buona fortuna, Carmen Sì, grazie Peccato, mi dispiace molto, ma non sei l'unico? Anche l'ambasciatore non è affatto contento di questo matrimonio e secondo me lui se smuovesse le acque riuscirebbe ad impedire il matrimonio, ne sono certa Sono io quello che deve impedire questo matrimonio, Carmen Certo Devo salvare Nini da questa situazione Tu hai sempre delle idee geniali, come posso fare per scappare dall'osceico? Non si tratta di ingegno, si tratta di forza L'ambasciata è circondata dalle guardie del corpo dell'osceico Tu gli metta qualcosa per distrarli, no? Rassegnati, io non conto proprio niente, figurati Che ti prende? Perché sei così negativa? Non ti riconosco, Vicky Ma da quando ho litigato con Sebastiano vedo tutto nero, non c'è niente di positivo per me Come ti capisco, anche io mi sento come te, abbiamo entrambe bisogno che ci capiti qualcosa di positivo, di bello Vabbè, cerchiamo di pensare a cose belle, positive Non è così grave che ti sia sposata con uno sceico sconosciuto di un paese ignoto Perché si prenderà cura di te, ti tratterà come una principessa E inoltre tu per lui sarai l'unica donna del mondo Chi sono? Scusate, voi chi siete? Le ancelle? Non siamo ancelle, io sono sciaizza, vuol dire colei che accomuna Loro sono Zoraide, Daila e Menuzza Siete parenti dello sceico? Noi siamo mogli Come mogli? Lo sceico ha ben quattro mogli Quattro che possono viaggiare, altre 43 rimaste nostro paese 43, 1, 2, 3, siete 46, 46, sono 46 47, Vicky Anche lei E sarei l'unica donna al mondo Ameremo vedere il nostro marito Ah, marito, è sposato con tutte voi, non siete gelose? Non è più innamorato di una piuttosto che di un'altra? Assolutamente no Tutte i mogli di sceico o di masca d'è trattate a stesso modo da lui Voi chi siete? Beh, ecco, io sono Vicky, che qui da noi significa una semplice occidentale guida turistica Lei è Nini, che sono la nuova moglie di tuo, cioè di vostro marito Tu nuova moglie? No, ma perché non sono stata zitta? E nuova moglie? Benvenuta in nostra famiglia Mi ascolti bene, se sta pensando di portare via mio figlio, io chiamo immediatamente Oh no, ambasciatore, stia tranquillo Oh no, no, non c'è pericolo Semplicemente suo figlio possiede stessa aura energetica che distingue nostro caro Amikavi Amikavi, se non lo sapesse, è il bambino sacro del nostro popolo Leggenda racconta che Amikavi ha preso sabbia e l'ha trasformata in farina per pane E in questo modo lui è riuscito a salvare da fame nostro popolo Dimmi, qual è il significato di quella statua? È il joystick della console, vuole giocare? Oh certo, sarebbe davvero grande onore per me, insegnami Abbi pazienza, almeno fino a che non sposerà Nini Ti prego Ciao Abel, per favore se senti il messaggio richiamami, è urgente Dobbiamo accordarci per le prove, ciao Molto bene, e poi dite a me che del ritrovo non importa niente, che sparisco sempre Beh, non abbiamo torto tutto sommato Ma se mi sono sempre impegnato a fondo, di che cosa ti lamenti? Non so, dimmi dov'è ieri sera Stavi provando la canzone? O sei andato a divertirti? Nell'una, nell'altra cosa, che vi prende? Scusate un momento, perché questo terzo grado? Non capisco Martin sai il perché Parli o vuoi che glielo diciamo noi, che ti sei accattivato Carla? È vero? Sì, è vero, ma non ha niente a che fare con il ritrovo, quello è un mio problema Non riguarda solo te, riguarda tutti noi, sai? Io pensavo che avresti convinto Carla a lasciarci tranquilli Sì, ho tentato, ho tentato, ma è andata male E volevi convincerla a stare dalla nostra parte? No, io non sono riuscito a farle cambiare idea, resta sulle sue posizioni La mia storia con lei non servirà a cambiare niente Quale storia? Ora state insieme Sì, sì, questo già lo so, so bene che sono molto potenti Ma in ogni caso non possiamo permettere che ci umilino in questo modo, è assurdo No, è grave che abbiano occupato l'ambasciata Non è come se gli avessimo dato asilo politico Sì, ma, beh, ho capito, va bene, va bene, perfetto D'accordo, a dopo Beh? Niente, dice che è uno dei personaggi più potenti del pianeta, tra i più ricchi Ah, ecco perché volevano rapirlo, è chiaro Sembra che Nini abbia fatto un grande affare No, non è affatto divertente, Serena, c'è poco da ridere Sto scherzando per alleggerire la visione Il cacciagliere dice che deve restare tutto come sta E noi dobbiamo fare assolutamente come vuole lo sceico Bene, allora, stiamo calmi Prima o poi lo sceico vorrà ritornare nel suo palazzo Anzi, spero ci resti cent'anni Con il suo oggetto privato andrà dritto a mascadee con Nini e la sua amata sposa Ci tengo a precisare che io non ho realmente accettato di essere sua moglie Non la volevo prendere la corona di fiori L'ho presa semplicemente perché volevo mettere i fiori in un vaso con l'acqua Insomma, pensavo che fossero fiori per decorare la stanza Non si rendono conto che non vuoi sposarti? Che cos'hanno tanto da ridere? Esatto, tu già sposate in realtà Voglio divorziare, ci deve essere un modo, no? Quando tu cinquant'anni non piacere più a nostro amato shiko può essere libera Quando avrò cinquant'anni? Ma come, gli faccio avere asilo politico e lui mi manda in una casa per anziani? Non so come facciate a vivere con un uomo del genere È un modo di dire Abdel, grande uomo Tutte noi molto innamorate di lui Quello che mi sembra strano è che non siate gelose Non... come fate per dargli un bacio? Prendete un numero? E io che mi lamentavo di Sebastiano È strano Noi tutte trattate al stesso modo Tu sei donna molto fortunata E il fatto è che non volevo sposarmi con lui Tantomeno voglio essere una delle tante Ma ora mi devono ascoltare, ora mi devono ascoltare Ciao, Martin Ciao Bene, fate pure i fidanzatini Ma non davanti a noi, per favore Qui proprio no Quindi state insieme, è fantastico Basta, Juan, basta Basta cosa? Carla, perché non vai a casa a disegnare i tuoi progettini? Non sono venuta qui per discutere, eh? Martin, possiamo parlare in privato? No, non può Ma sì che può Senti, Martin, vattene da qui e non farti rivedere più Finitela con questi atteggiamenti, così non concludiamo nulla Non posso credere che siate così infantili Martin, per favore, andiamo da un'altra parte No, lui non va da nessuna parte Ci siamo riuniti per chiarire alcuni punti Lasciamo che sia lui a decidere, giusto? No, insomma, siamo qui proprio perché vogliamo aiutarlo Posso decidere da solo, Sofia, smettila Va bene, per favore, spinta un minuto No, 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 lascialo E dai, togli queste mani, non mi toccare Io faccio quello che mi pare Se non vuoi finire davvero nei guai, lascia stare il nostro ritrovo ai nostri amici Porta via i tuoi scagnozzi, basta Sentite, il fatto è che io lavoro e voi non fate niente State tutto il giorno senza fare niente Vogliamo smetterla con tutta questa aggressività, per favore? No, io non lo aspetto perché sono davvero stancho Ah, è qui, Sheikko, le devo parlare, è urgente Ah, guarda qui, grande sorpresa Ecco, mie stupende mogli, Dalila e Aiza, mie donne predilette Abda, tu ho mancato molto Ah, grazie, tante, grazie Scusi, permette, Sheikko, a me fa piacere che lei abbia tante mogli Ma io non voglio essere la sua Sheikka, sono stata chiara Meravigliosa, ti farò eternamente felice Di fatto siete già sposati, manca solo cerimonia Tranquilla, perché ora tutte mia moglie aiuteranno te con preparativi, già Aiza Voglio che questa bellissima, stupenda ragazza sia come principessa Andiamo, lasciamo lavorare loro Ciao, amica B Amica B Amica B è un piccolo eroe del nostro paese Zaladun Maladin Anche voi, prego, Zaladun Maladin Ciao, caro, va dopo Permesso? Hai visto come... Hai visto come onorano il nostro Chiama? Magari potrebbe aiutarti, forse sa qualcosa, non so Chiama, ascoltami Ah, certo, puoi convincere lo Sheikko che io sono malvagia, che sono cattiva, che non mi lavo Insomma, inventa quello che vuoi perché non mi sposi Ti sposi lo Sheikko? Fantastico! No, Chiama, è orrendo, un disastro Bene, ora farò del mio meglio, d'accordo? Oh, no Sei pronta, moglie promessa? Mi chiamo Nini Nini Prepariamo te per tua cerimonia Oh, no, per favore, ci deve essere un modo per uscirne Io non voglio sposarmi con lo Sheikko Ma non è possibile, quando Sheikko mette in sua testa idea, nessuno può cambiare Ti prego, ci deve essere un modo, aiutami, per favore, aiutami Va bene, un modo può essere Quale? Quale? Un modo per non sposare Ma molto difficile per donna occidentale Non mi importa qualunque cosa, qualunque cosa, che devo fare? Carmen, la mia situazione è critica Insomma, a malapena sono riuscito a ostacolare Victor nel rapporto con Nini E adesso arriva un tizio sconosciuto che riesce addirittura a sposarla in due minuti In due minuti, dico Beh, Angelo, ma questo tizio sconosciuto sicuramente vive in una reggia con rubinetti d'oro nei bagni E tu invece al massimo studi qualche lavandino o fai i lavoretti del genere E che c'è di male? No, niente, niente Ma magari qualche piccolo merito c'è là, lo Sheikko, no? Ascolta, a Nini non interessano i soldi, Carmen Angelo, ti prego, non essere così ingenuo Guarda caso, ogni volta che Nini ha qualche storia con qualcuno Si tratta di una persona che sta bene economicamente E va bene, pensa quello che vuoi, di quello che vuoi Ma tanto io a Nini le voglio bene, con tutto il mio cuore Adesso basta con questa storia Ricorda, prima devi voler bene a te stesso Angelo, per favore, ci sono cose più importanti E cosa c'è di più importante? Rendere il tuo look un po' più allegro Prova questa, forza Insomma Sì, sì, ho capito Va bene così, grazie No, non diceva te Ora mi senti? Scusa ma devo lasciarci Tiene il volume della televisione al massimo Si sente fino in camera mia Ah, ma questo non sarebbe davvero problema Perché stanza di nuova sposa in Bradica Si trova a grande distanza da miei appartamenti Ho avuto un'idea Parti via Lupe oppure Carmen sono grandiose Oh, non ho dubbi che siano fantastiche Ma sai qual è il problema? L'ha eletta deciso a favore di... Per favore, lasci che rimanga qui Le do i miei giochi preferiti Questa sì che è proposta davvero molto allettante Ma purtroppo devo dire di no Io ho già deciso, mi dispiace Signori, amica B è qui nel salone Zaladun Maladine Roma dell'altro mondo Signore, prego anche lei per favore Non mi offenda Zaladun Maladine Salamon Salamini È una situazione che non sopporto più Sembra di essere a Mascadè Perché? A me sembra tutto così pittoresco Sarà un bel matrimonio Brutte notizie Cioè? Quali? Non è contemplato il divorzio a Mascadè L'unica cosa che ci rimane da fare È un appello a un'organizzazione di tutela dei diritti E dire che Nini non ha dato il suo consenso per questo matrimonio Va bene, allora Sebastien, pensaci sì Ma non è così facile, Tomas Ci vorrebbe molto tempo E quando interverrà non sarà troppo tardi Facciamolo ugualmente Chiaro? Sì, ci penso io Ah, perfetto Ci mancava solo lo spettacolo Onoratissimo amato Abdel Sposa promessa a bella sorpresa Ballerà a danza del ventre È una mancanza di rispetto allo sceicco È fuori di testa Vicky Sì, dica Mi spieghi come mai Nini è vestita in quel modo? Che sta succedendo? Sembra che sia l'unico modo per chiedere un favore allo sceicco Se Nini ballerà la danza del ventre Lui soddisferà un suo desiderio Coraggio In questo modo Su, avanti Lui soddisferà un favore allo sceicco No, forse hai avuto una buona idea Tanta le stupidaggini, ti prego Lui soddisferà un favore allo sceicco Lui soddisferà un favore allo sceicco Lui soddisferà un favore allo sceicco E vorrei Insomma chiederle Se può Annullare il nostro matrimonio Per favore Carla, le ragazze sono molto nervose Siamo tutti nervose Ascolta, questo per me non ha importanza Quello che davvero non sopporto di loro È che siano sempre così prepotenti Credimi, non lo sopporto Sofia Cosa è successo? Perché sei qui? Rispondi Niente Un piccolo incidente, niente di più Pamela ha parlato di un litigio No, no, è stata una caduta accidentale Davvero Sofia, non mentire Perché non dici la verità a tuo padre per una volta? Allora c'è stato un problema serio qui No Senta, è già tutto risolto, davvero No, per me no Voglio una spiegazione Vuoi che affidi a te la responsabilità di questo posto? Papà Dimmi cos'è successo, Sofia Non è successo niente, davvero Pamela mi ha detto che c'è stato un grosso litigio Beh, è così che pensi di curare gli affari di famiglia? Andiamo a casa E voi, fuori da questo posto Che bel caratterino Lui ha un caratterino, eh Senti chi parla Tu hai un carattere impossibile Sei fuori di testa Io fuori di testa Andiamo, state buoni Fermati, fermati Lola Sentite, è veramente assurda questa situazione Non riesco a capire come mai voi siete tutti così esaltati Senti, vuoi finirla di criticarci? Nessuno ti ha chiesto di venire Nessuno ti ha chiesto di venire qui a provocarci E alla fine sei tu quella più infantile di tutti Cerca di stare tranquillo Aspettiamo che dica qualcosa Sì, aspettiamo Allora? È incredibile quello che sta succedendo È assurdo Aspetta, un po' di pazienza Prenderà una decisione E se dicesse no? Beh, agiremmo di conseguenza Per ora aspettiamo Tomas, è un'ottima cosa che Nini si sposi con uno sceico Ma come? Allora, secondo te ho qualche possibilità? Bisogna calma Per risposta servono anche settimane Settimane? Oh no, io la voglio adesso la risposta Ah, eccolo Sta venendo qui Verdetto, a proposito di tua interpellanza È stato raggiunto Ah, fantastico Quindi vuol dire che non ha mai visto una donna danzare meglio di me In tutta la sua vita Sì, le dispiacerà Ma mi lascia andare? Riconosco che il tuo modo di danzare è molto stravagante Molto simbatico E abbastanza interessante E significa, e significa Sì, ha detto di sì Sì, sì, sì Ha accettato No, risposta è no Io volerei essere onorato di tuo ballo tutta la vita Signore, signori Ho grande onore di presentare mia nuova moglie in società Per favore salutate Zaladum Maladin Anche voi, signori, per favore O prenderò come offesa Coraggio Salutate mia moglie Non preoccuparti Faremo di tutto per tirarti fuori da questa situazione Grazie E ora la signora Prego, signor Parker Dica a sua signora se per favore viene a salutarla Altrimenti io prendo come offesa Non fatemi arrabbiare Parker Parker Non credo che pueda volver a empezar Non credo che pueda volver a olvidar Si te amé fu hasta llorar Si te amé puoi sin pensar Non finisce qui Si te amé fue como pude Signore e signori Hanno inizio i preparativi per la cerimonia di nozze Andiamo, andiamo Vicky davvero non vuoi venire con me? Sai, mi hanno detto che laggiù a Mascadecci sono circa 50 gradi all'ombra ma per fortuna non si sentono Vorrei tanto ma so che per il visto ci vogliono circa tre anni mi sto informando meglio Beh, ti scriverò col pensiero ti starò sempre vicino Si, certo tu qui nel ring e io nell'arem Ti rendi conto che quella roba lì sono pietre preziose che possono valere una fortuna vero? Ma non mi importa quanto valgono Vicky, io sono troppo infelice davvero Nini Io capire te a volte può succedere a inizio ma fidati lui gentile e buono molto alla fine tu innamori Nini tuo marito mi ha offerto ora 15 cammelli voglio creare una grande divisione militare con truppe cammellate 15? Si Per me è offerto solo no Nonno, a me non interessano i cammelli o i gioielli io non sono innamorata di quell'uomo Ma Nini, vivrai avventure fantastiche Non mi interessano E non ti sposare Non è facile, sono costretta non possono sposarmi Costretta? Eh no, questo non mi piace affatto Nonno, qualcuno ha detto che lei ha giardino stupendo possiamo vedere i suoi fiori? Si, si, certo da questa parte dopo di voi, signore Ah, e non preoccuparti se non ti sposi restituisco i cammelli Di qua, signore Ma dove va? Deve prendere le medicine Siamo sole Pensa a qualcosa presto fatti venire un'idea Adesso o mai più Cosa? Andiamo Ma che cosa vuoi fare? Vieni Nini, io ti salverò Ecco fatto sono arrivato tardi Io non posso permetterlo finora non ho reagito ma adesso basta vado a parlare con il cancelliere farò sospendere la cerimonia Questa storia è davvero ridicola Ma il cancelliere ha detto di evitare un incidente diplomatico con questa gente Non mi importa di quello che dice il cancelliere mi importa di Nini Affronteremo l'incidente diplomatico Che altro posso fare? Voleva me, signor Parker? Sì, esatto Voglio che annulli questo matrimonio Nini è mia No, l'ambasciatore intendeva dire che la signorina Nini è una sua impiegata Sua impiegata? Già, lei non ha diritti su Nini No, ce li ho invece No, niente affatto Sta confondendo, signore Nini ha accettato i miei fiori E poi abbiamo pagato 15 cammelli per Nini Ha accettato i fiori perché non sapeva cosa significasse E poi la storia dei cammelli da noi non ha nessun senso Come glielo devo dire? Ma qual è il problema in questa ambasciata? Perché alza così sua voce? Qual è il problema su decisione che abbiamo preso? No, che lei ha preso da solo Ma non le entra in testa che Nini non la ama Non lo capisce, è tanto difficile Tomas Io non permetterò che lei mi manchi di rispetto, signore Questo disonore si può risolvere con sfida E se è un problema così grande per lei che si è sposato con Nini la invito a battersi a duello, signor Parker A duello? Sì, signore Un duello, un duello Che vince si terrà Nini È disposto, signor Parker? Per Nini? Sì, sono disposto Chi è persona più vicina a Nini? Adesso basta Io sono l'ambasciatore di Santa Juliana e devo tutelare i diritti dei miei cittadini Perciò mi batterò io Lei è una cittadina e io la difenderò Perfetto Signore e signori Allora io mi confronterò con signor ambasciatore Parker Questione chiusa Si batteranno per l'onore di Nini Per salvare Nini Se vince Abdel, Nini è sua sposa Se vince Tomas, Nini è libera da ogni vincolo Perché deve essere lui a salvarla? Tu sei suo fidanzato Pensaci tu, no? Infatti, per l'appunto Io mi ero offerto Però poi Tomas gli ha detto che lui è il difensore della legge di Santa Juliana E alla fine poi lo ha convinto Dov'è Tomas? Dov'è? Dov'è Tomas? Non so dov'è Tomas Si starà preparando Ma sarebbe meglio che pensassimo a un piano E poi... Oh, giù il piano Evitare il confronto, ok? No, quello è l'obiettivo del piano Io parlo della strategia O vuoi improvvisare e dire la prima cosa che ti viene in mente? Quella è la specialità di Nicolás Lui va, parla e tutto si risolve e finisce bene Con lui è sempre così Dobbiamo avere fiducia Quando parli di Nicolás Come se davvero foste due persone distinte Mi fai un po' paura Io... Non lo so, sono confusa No, no, fermi Aspettate Fermi, fermi, fermi Sono io la persona più vicina a Nini Oh, se ne va Che bello Che fortuna Che fortuna L'ha visto? Ma dove stai andando? Perché se ne va? Comunque sfida proseguirà Però con persona che ha interrotto E cioè con lei Che cosa vuoi, Eva? Un posto dove nascondermi Mi cercano e devo lasciare il paese Sì Ma io che cosa c'è? Mi servono soldi e un passaporto Non è possibile Servono dei requisiti che tu non hai Ah, ma allora non mi stai ascoltando Non te lo sto chiedendo Te lo sto dicendo So che ti sposerai E se non fai come ti dico Tutti sapranno che hai una figlia Thomas sa che ho una figlia E sa che è Cecilia Perciò non puoi più minacciarmi E sa che l'hai abbandonata? Con questa prova vedremo Chi di noi due realmente Ha completo dominio di suo corpo E per capirlo Noi dovremo mangiare formiche Che cosa? Ah, no, 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 no Per favore L'amore di Nini Gomez Ah, poverina, no Te lo chiedo per favore Fallo per Nini Non puoi tirarti dietro adesso Bene, bene Guarda un po' chi è venuto a farci visita Non puoi vivere senza noi due, eh? Se non stai abbastanza comoda Chiedi pure Non fare lo spiritoso Questa volta gli ordini li do io Ah, perfetto Comunque parla con mia sorella Perché io non ne voglio sapere A proposito, Selina Quando avrò il passaporto e i soldi? La pratica va avanti Ricorda che sono io la prima a volere Che tu te ne vada Forza No, 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 no Sal, la vista al cinema Basta, sono stanco Lascio la città Come? Non dipende da me Purtroppo la mia famiglia ha dei problemi E ce ne dobbiamo andare Quando parti? Presto E starò via un po' di tempo Ma non puoi restare per lo show E partire dopo? Se non posso fare le prove Preferisco rinunciare Non voglio parlare di Nini adesso Sto ancora male per come si è comportata Perciò non me la nominare Non la nominare? Ma di cosa parlo? Ma come di che cosa parlo? Parlo di Victor Lo sai benissimo Ah, è lei che si sposa con Selina Questo allora non conta No, è completamente diverso Io mi sposo perché lei non mi vuole Oh, sta dicendo che si sposa con Selina Perché Nini vede Victor Non è vero Aveva già deciso Non sia falso Ma finiscila Ma come è falso Oh, si è gelato Si è gelato Mi perdoni Ci siamo Piano segreto Principe partito Preparate macchina Io metto lui capò E che tutto vada bene Calice rosso per principe vincitore Verde per sconfitta Ma per favore Uno vale l'altro Ma come rosa No, quello rosso no Doveva prendere quello verde E ora mi sentirete Perché sono stacco Ne ho fin sopra la parrucca Nicolás, che ti succede Nini torna domani alla stessa ora Su Boeing Tra poco si scatena la follia di Akashis Castle Su Boeing Vi presento Me stesso Lo avete ric***o